buongiorno sono luca serbini consulente commerciale audi prima scelta plus della concessionaria bonaldi gruppo euro caritalia presso la filiale d'aziano san paolo oggi abbiamo qui un audi a4 avant s line edition 35 tdi mild hybrid nella colorazione grigio quantum una vettura che rappresenta un connubio perfetto tra lavoro famiglia senza rinunciare al tocco di sportività allestita con cerchi lega da 18 pollici fari full led con tecnologia matrix indicatori di direzione dinamici anteriori e posteriori la vettura è dotata di portellone con apertura e chiusura elettrica e infine sensori di parcheggio anteriori e posteriori sia sonori che visivi all'interno dell'abitacolo troviamo un volante multifunzione a tre razze in pelle con comandi al volante un climatizzatore automatico a tre zone schermo mmi completamente touchscreen con interfaccia del telefono con la vettura sia tramite bluetooth che tramite il phone apps la vettura è dotata anche di un virtual cockpit dove è possibile visualizzare tutte le informazioni dai consumi la memoria a breve termine lungo termine l'assistenza al conducente line assist piuttosto che il cruise control adattivo la radio il telefono e anche la mappa del navigatore venite a scoprirla nel nostro showroom di alzano san paolo dove troverete altre audi a4 con colori e motorizzazioni diverse un saluto e buona giornata da luca